200 euro in busta paga a luglio, 2022 per pensionati, lavoratori dipendenti sia pubblici che privati e lavoratori autonomico redditi fino a 35.000 euro. È una delle misure volute dal governo Draghi nel decreto aiuti per contenere gli effetti dell'inflazione. L'indennità sarà erogata anche a chi percepisce indennità di disoccupazione alla Naspi. Il bonus è riservato a chi riceve reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali, collaboratori domestici e lavoratori dello spettacolo. Il bonus sarà quindi automaticamente erogato in busta paga per i dipendenti sia pubblici che privati, erogazione automatica anche per i pensionati. Gli autonomi e i professionisti dovranno presentare invece specifica domanda all'Inps. Parliamo quindi di lavoratori dello spettacolo, stagionali nei settori turismo e agricoltura, ma anche domestici, ovvero colf, babysitter e badanti. Per i lavoratori dello spettacolo che avevano già beneficiato di indennità Covid 2021, ci sarà l'erogazione dell'importo in automatico.